Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Benvenuto direttore della stampa, buonasera. Allora, è giusto o è troppo il lutto nazionale secondo te? La pietà sumana che si deve nei confronti di Berlusconi l'abbiamo espressa tutti in queste ore ed è ovvia, logica e giusta. Dopodiché se passiamo ad una valutazione più politica e pensiamo in quali altre circostanze in passato il lutto nazionale è stato decretato nei confronti di grandi personaggi della Repubblica, allora verifichiamo che questo è accaduto nel caso di ex Presidenti del Consiglio solo in due circostanze, una per Giovanni Leone e l'altra per Carlo Azzeglio Ciampi. In questa occasione, io dico, e segui di Stato, ed erano stati anche Presidenti della Repubblica, in questa circostanza, io dico, funerali di Stato ci stanno. Berlusconi è stato un protagonista della politica italiana e ha ricoperto il ruolo di Premier per tre volte. Il lutto nazionale a me sembra francamente un'esagerazione. Non bisogna dimenticare che dal punto di vista politico Berlusconi è stato un personaggio importante, ma è stato forse il più controverso di tutti gli ultimi trent'anni. Quindi è un personaggio che divide politicamente il paese e quindi il lutto nazionale francamente a me sembra assolutamente improprio. Ci sono anche i papi, le vittime delle grandi catastrofe. Non è stato dato a Falcone. Quando è stato assassinato Falcone e Borsellino? Il lutto nazionale non è stato decretato. Allora, io dico, un po' di misura, ecco, in queste ore un po' di misura. Ecco, io prenderei questo spunto per ragionare, però, sulla destra, no? In fondo è stato voluto dal governo questo lutto nazionale. In qualche misura un rapporto che era iniziato malissimo, quello tra Berlusconi e Giorgia Meloni. Ti ricordi gli appunti Berlusconi. Lei che dice io non sono ricattabile. Quanto questa destra di governo e figlia è simile o è distante dalla destra di Silvio Berlusconi? Ma è molto distante. Mi ricordo una cosa in più, se posso autocitarmi. Il penultimo compleanno di Silvio Berlusconi, telefonata tra me e lui per gli auguri, e io gli dissi, ormai si profila all'orizzonte un governo con Salvini e Meloni, uno dei due sarà premier, e lui mi rispose testualmente io lo scrissi sul giornale, non scherziamo. Questa fu la sua risposta. Questo per dire anche qua, in nome della verità storica, è chiaro che le tre destre poi si sono unite, si sono congiunte e hanno vinto legittimamente le elezioni, come sempre fanno, perché la destra ha questa caratteristica, anche quando è totalmente eterogenea, per non dire conflittuale, nel momento in cui si vota, si compatta e vince, al contrario di quello che fa sempre la sinistra. Rimangono le differenze, perché Berlusconi rappresenta una destra totalmente diversa da quella di Giorgia Meloni, che è ideologica e viene dal passato dell'ex movimento sociale italiano, mentre Berlusconi non ha niente a che vedere con quella storia lì, li ha legittimati, sia l'ex movimento sociale ai tempi di fini, sia la lega secessionista di Bossi, per vincere le elezioni. Ci è riuscito, ma lui dal punto di vista politico, culturale e ideale, non ha niente a che vedere con quelle destre, è una destra acostituzionale, afascista, arepubblicana, per usare l'alfa privativo. L'alfa privativo in tutto, però nasce con un forte imprinting liberale, forse Italia, perché ti ricordi le riunioni di Martino, Antiseri, poi addirittura Colletti, nacque una spinta liberale che Berlusconi ha sempre rivendicato. Malamente, perché Berlusconi resta un gigante dalla politica italiana, nel bene e molto nel male, dal mio punto di vista. Però la sua vera promessa tradita, al di là delle chiacchiere populiste, meno tasse per tutti, un milione di posti di lavoro, cancelleremo lici, è proprio la grande rivoluzione liberale. Quella non l'ha mai fatta, ma non ci ha mai neanche pensato, l'ha predicata senza mai praticarla, perché viveva, il suo governo e la sua avventura politica, di conflitto di interessi. E quindi tutto ciò che ha manipolato in termini di mercato, di libero mercato, in nome del conflitto di interessi, non ha nulla a che vedere con il liberalismo economico, è il governo che ha privatizzato meno, hanno privatizzato i governi di sinistra, è il governo che non ha liberalizzato niente, ha liberalizzato Bersani, lui zero. Ma allora qual è la differenza con questa destra, perché questa destra alla fine è come se si fosse tolta la maschera, se questo è quello che stai dicendo, prendiamo il caso dei balneari, ma tanti piccoli casi di rendite in qualche misura corporative tenute in piedi da questa destra in maniera esplicita. Allora se prima era solo un blef, adesso questa è una destra più sincera quella di Giorgia Meloni e Saldini. In questo senso c'è una piena continuità, bisogna dirlo anche qua, tolto di mezzo l'aspetto che riguarda la pietà umana, ma quando oggi Giorgia Meloni parla a proposito del versamento delle tasse sui piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti di pizzo di Stato, è figlia del berlusconismo nel momento in cui il cavaliere si presentava alla cerimonia annuale della guardia di finanze e diceva pagare le tasse è immorale, ai finanzieri lo diceva. Adesso c'è quindi una coerenza da questo punto di vista. Se vogliamo però Giorgia Meloni lo fa da un punto di vista che è più corporativo. Mentre per Berlusconi valeva l'idea della casa delle libertà, c'era un famoso gag di Corrado Guzzanti, ve la ricordate? Tutti che ballavano la sera e lo slogan era facciamo un po' come cavolo ci pare. Ecco, questo era il suo liberalismo che in realtà era appunto facciamo come ci pare. Oggi Meloni lo teorizza, l'ha detto nel discorso sulla fiducia alla Camera. I piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani sono i figli di un dio minore. Adesso io li voglio rivalutare. Quindi è una scelta corporativa. Li ha individuati, questa sorta di sceto medio impoverito, come suo punto di riferimento e come sua costituenza politica. E quindi gli dice non pagate le tasse, io non vi tartasserò. E parliamo dell'elemento immateriale di Silvio Berlusconi. Quella comunque, diciamo, capacità di far respirare il popolo che lo votava, il suo sole in tasca, la capacità di fargli vedere il mondo in una maniera più dolce. Ti ricordi anche la scena di quando Travaglio pulì la sedia e Saltoro si arrabbiò e Berlusconi dice ma voi non sapete ridere. Questa capacità di alleggerire, questa destra non l'ha. No, questa destra non l'ha e non ce l'ha neanche la sinistra. Questa è veramente una qualità tutta berlusconiana. Dopodiché, anche qua, l'uomo aveva due facce, mi ha autosciuto di nuovo e scusatemi, sole in tasca e coltello tra i denti, però. Quello però è un tratto della politica. Quando c'era da combattere, come diceva Cesare Previti, non facciamo prigionieri. Però detto questo, il suo tratto simpatico ed empatico che io stesso ho vissuto sulla mia pelle. Ho letto che ti ha regalato le gratte, ma questa è una di quelle, no? Questa no, però ce ne ho altre, quelle che mi regalò, di quelle tre le ho fatte restringere e me le conservo. Ah, lei è un po' fatta a modo tuo. No, perché resto comunista, come mi disse lui. Le hai fatte di sinistra. Esatto. Ma glielo dissi, grazie, ma io le farò stringere. Ho notato che ognuno di noi ha in fondo un ricordo che lo rende unico nel rapporto con Berlusconi. Ognuno di noi sa di aver avuto un qualcosa con Berlusconi che ci ha regalato un ricordo che ora lo fa un po' solo nostro. Questa era una grande abilità. Assolutamente. Su questo bisogna riconoscerlo. Berlusconi aveva una dote che nessun altro leader politico, prima direi e neanche dopo di lui, ha mai avuto. Questa capacità di immedesimarsi col proprio interlocutore e mettersi alla sua altezza. In questo c'è una differenza con la sinistra, no? Qualche anno fa uscì un saggio molto bello che si intitolava l'umiltà del male, scrisse Franco Cassano, in cui metteva in evidenza esattamente questo. La sinistra, nel rivendicare i propri valori e la propria superiorità morale, mette il suo popolo, o in generale il popolo, la gente, in una condizione di soggezione, di inferiorità. Berlusconi questo non lo faceva, perché diceva agli italiani, io ho i vostri stessi lizi, quindi praticateli, perché io sono come voi e questo gli ha consentito di prendersi il paese. Se ce l'ho fatta io, che ho dei vizi così evidenti, perché non ce la dovreste fare voi? Questa è una qualità che aveva, oggettivamente. E allora però, io ti rovescio, tu dicevi, solo in tasca e coltello tra i denti, anche gli italiani però sono così, no? Tutto gli potevano perdonare, tranne il fallimento economico. Cioè lui alla fine cade proprio sullo spread, cade sulla fiducia che gli altri hanno del nostro paese con l'unità di misura economica. Quello non gliel'hanno perdonato. Quello non gliel'hanno perdonato, però anche quello, se vogliamo, nasceva dalla sua passione per le donne, perché è quello che perde il governo Berlusconi. Quando lui rivince le elezioni nel 2008 e ritoglie il governo a Prodi, ha in mano il paese, mai come in quel momento. La sinistra aveva fallito per la seconda volta, era durata solo due anni. Se lui non si fosse fatto prendere da quel demone, perché era un demone purtroppo, la credibilità del suo governo avrebbe retto in qualche modo, dopodiché l'economia non andava bene, ma il tracollo, il collasso dello spread nasce soprattutto da questo deficit di credibilità. Ormai dovunque andava nei vertici internazionali non lo ascoltava e non lo seguiva più nessuno e i mercati a un certo punto hanno detto di questo non ci fidiamo più. Quindi io penso che sia soprattutto quello il problema. Dopodiché l'economia rimane uno dei suoi, come dicevo prima a proposito della rivoluzione liberale, punti oscuri. Non ha fatto niente di quello che aveva promesso. Niente. Ci sono degli osservatori che mettono in rapporto le due destre. Dicono guardate c'è la destra di Berlusconi che ha pagato sull'unità di misura economica i suoi vizi, le sue manchevolezze, i suoi demoni. L'attuale destra potrebbe pagare tutto quello che ha da pagare e quindi l'approccio ideologico, quindi l'approccio nei confronti ai diritti, proprio sul PNRR. Il PNRR potrebbe diventare, l'incapacità di approfittarne potrebbe diventare quello che è stato lo spread per Berlusconi. Purtroppo questo è vero. Di gran lunga è il pericolo maggiore che corre adesso questo governo. Perché mentre per il resto ha messo in sicurezza, Giorgia Meloni ha messo in sicurezza il Paese. Sui saldi di bilancio tutto sommato ha detto a Giorgetti non sforiamo e rispettiamoli. E così è andata. Sulla politica estera, parliamo soprattutto della guerra ucraina, la fedeltà euro-atlantica non è in discussione. Basti vedere quella foto piuttosto indicativa di lei tenuta per mano di Biden che lo guarda come se fosse il messia. Ebbene, per il resto però noi abbiamo questa formidabile occasione che è il PNRR. 209 miliardi che l'Europa ci mette a disposizione, parte in prestito, parte a fondo perduto. Non li stiamo attuando. E quindi anche dal punto di vista dell'immagine, oltre alla reale ed effettiva praticità di questo provvedimento che serve a dare agli italiani infrastrutture, reti telematiche, colonnine elettriche per l'auto del futuro. Ecco, c'è un problema di credibilità. Se non riusciamo neanche stavolta, che l'Europa ci ha dato credito, mutualizzando una parte del debito, a fare il nostro dovere, ce la faranno pagare. Ferdinando Cassini, benvenuto.